E noi, l'Italia! Importante traguardo raggiunto dalla società adriatica Volley di Fano in ambito nazionale in quanto è stata scelta per il progetto di qualificazione del settore giovanile femminile chiamato l'Italia siete voi. Nel progetto sono state individuate in totale 118 società delle oltre 4.000 circa affiliate alla FIPAV in tutta Italia. Anche motivo di stimolo, di soddisfazione, di porsi nuovi obiettivi per tutta la società perché in parte riconosce quello che di buono fino ad ora è stato fatto. Ormai da anni nelle palestre in cui operiamo si ritrovano periodicamente circa 250 atleti in gran parte delle scuole elementari e medie e questo per noi è motivo di orgoglio e queste iniziative ci fanno mettere nuova energia e cercare di fare ancora meglio. Questa selezione è stata fatta anche attraverso dei criteri ben precisi. Questa selezione è stata fatta seguendo la federazione pallavolo da tempo adotta un sistema di marchio di qualità a cui noi siamo oramai abbonati da molti anni. Siamo nella categoria intermedia che si chiama qualità d'argento. A seguito di un breve incontro con lo staff tecnico è stato effettuato un doppio allenamento il primo con le atlete Under 16 del gruppo in collaborazione con la società APAV di Lucrezia il secondo invece con un gruppo Under 14 con l'attività di partecipazione ai lavori dei tecnici della società codiuvati dall'allenatore Oscar Maghella. Quali sono i consigli di solito che dà ai ragazzi prima di una partita? Noi tecnici dobbiamo abituarci a coinvolgere effettivamente le atlete e le ragazze nell'apprendimento. Le loro opinioni, le loro sensazioni, ciò che loro pensano sono assolutamente importanti per loro, per noi e per il loro apprendimento. Grazie a tutti. Grazie. Grazie a tutti. Grazie!